Un momento di incontro con la testimonianza di rappresentanti di alcune realtà operanti nel comprensorio sul vasto tema della cultura e del turismo. Si tratta dell'evento organizzato dal forum Cultura e Turismo PD Sicilia che si è svolto sabato scorso nella sala convegni dell'hotel Sileno di Gela. All'interno del Partito Democratico esiste un forum che si interessa di cultura e di turismo. Sì, è un forum messo in campo dalla segretaria regionale rappresentata qua da Antonio che proprio nella segretaria regionale si occupa di turismo e cultura che vuole essere un modo di riavvicinare un po' la politica ai cittadini andando a comunicare e a prendere le esperienze da quegli altri attori della società che sono anche essi in un certo senso attori politici che danno un contributo ai nostri territori sia come associazioni che come singoli che anche come volontariato e danno quindi un contributo in questo caso nel campo della cultura e del turismo. Quindi è un'iniziativa assolutamente lodevole e importante perché riavvicina un po' quella che è la politica classica al territorio. Quanta importanza ha questo argomento, la promozione turistica del territorio e il rilancio della cultura all'interno del Partito Democratico? E da dove è nata l'idea di riaccendere il dibattito su questi argomenti? La segreteria regionale del PD da qualche tempo ha iniziato un'attività sui territori che serve innanzitutto ad ascoltare quelle che sono le competenze, le esperienze, i circoli e da lì prendere tutti quegli spunti e quelle iniziative che si vanno a innestare nel percorso delle riforme che necessariamente servono alla Sicilia. In questo senso è chiaro che noi abbiamo un patrimonio culturale, ambientale e no gastronomico straordinario e va valorizzato come? Con delle riforme che permettono di ottimizzare le risorse da una parte ma dall'altro naturalmente innestandole in territori che siano fertili e quindi il confronto e il dialogo per noi è fondamentale e questo è uno di quegli incontri in cui prenderemo spunti che poi porteremo all'interno di tutte le istituzioni nelle quali noi siamo presenti. Tra le realtà chiamate a tracciare un bilancio delle proprie attività raccontando esperienze e progetti le associazioni, la polis della cultura, la prologo di Gela e la fattoria pedagogica La Grazia di Caltagirone. Grazie.